Quali sono le 5 cose che devi assolutamente imparare per diventare un ceramista? Scopriamole insieme! In questo nuovo video vi voglio parlare delle nozioni base che dobbiamo conoscere assolutamente per imparare a creare degli oggetti di ceramica dall'inizio alla fine e perché no trasformare il nostro hobby in un vero lavoro Numero 1, le argille Quale argilla scegliere? Beh, dipende un poco da quello che vogliamo fare Vi elenco le tre principali argille che si utilizzano per la cottura a bassa temperatura La prima è l'argilla grigia Un'argilla che va benissimo per la lavorazione sia al tornio sia con le tecniche di modellazione manuale Questa argilla la possiamo lasciare sia dopo la prima cottura appunto grezza in terracotta Oppure possiamo smaltarla sia con smalto sia con cristalline e poi decorarla magari con dei soprasmalti La seconda argilla di cui vi voglio parlare è l'argilla bianca L'argilla bianca è ottima sia per la lavorazione al tornio sia per la lavorazione manuale ma anche per il colaggio L'argilla bianca si presta tantissimo ad essere decorata con gli ingobbi e ad essere smaltata con le cristalline Avendo appunto il corpo bianco le cristalline risultano veramente splendenti La terza argilla di cui vi voglio parlare è l'argilla pirofila È un'argilla che possiamo utilizzare sia al tornio sia manualmente La possiamo utilizzare sia per creare tutti quegli oggetti che andranno a contatto con il fuoco o con il calore in generale Oppure io la uso anche per mixarla con altre argille in modo da rendere le altre argille un poco più resistenti in quanto l'argilla pirofila ha una percentuale di chamotte nell'impasto stesso Anche l'argilla pirofila si può sia lasciare grezza sia smaltare Numero 2 Le tecniche Quali tecniche possiamo utilizzare per creare i nostri oggetti? Possiamo usare il tornio Il tornio ha una curva di apprendimento lievemente più lunga rispetto alle altre tecniche Ha un costo maggiore perché un tornio professionale può costare anche dagli 800 euro in su ma una volta imparato ci permette di creare o produrre i nostri oggetti in maniera molto veloce Un'altra tecnica, un'altra macro tecnica è quella della modellazione manuale che può comprendere il colombino, la lastra, il pinching e molto altro Sono tecniche che ci permettono di avere molta più libertà per decidere la forma dell'oggetto che stiamo creando Gli strumenti che utilizziamo per le tecniche manuali sono molto economici e a volte possiamo anche costruirli noi stessi Chiaramente gli oggetti creati con queste tecniche hanno dei tempi di lavorazione più lunghi Quindi nello stesso tempo ne faremo meno che al tornio Un'altra tecnica che possiamo utilizzare è il colaggio Il colaggio è sicuramente una tecnica veloce per produrre degli oggetti in serie Un po' meno l'inverno perché i nostri calchi ci metteranno un po' di più ad asciugarsi E inoltre la tecnica del colaggio prevede che noi impariamo prima a creare i calchi dei nostri oggetti E crearli in gesso Un consiglio magari all'inizio è quello di acquistare dei calchi da chi già lo fa di mestiere Numero 3 Decorazione e smaltatura Quali sono le tecniche che ci permettono di decorare e rifinire i nostri oggetti? Beh, le due principali sono La prima, gli ingobbi Ossia dei pigmenti colorati a base argillosa Li possiamo utilizzare sia a pennello Sia con delle spugne Sia con degli stampini Sia con degli stencil Ma anche con delle decalcomanie La seconda tecnica che possiamo utilizzare è la smaltatura Di solito sul pezzo già cotto Che cos'è la smaltatura? La smaltatura è quella tecnica che ci permette di avere un rivestimento vetroso sul nostro oggetto in ceramica La smaltatura possiamo effettuarla a immersione, a pennello oppure anche con l'aerografo Una volta che il nostro smalto è asciutto possiamo usare anche dei colori che vengono chiamati sopra smalti Appunto da applicare sopra lo smalto E li possiamo applicare sia a pennello oppure magari con degli stampini O anche esistono delle decalcomanie fatte con questi sopra smalti Un'altra tecnica che possiamo utilizzare è quella della decorazione a terzo fuoco Usando dei colori specifici possiamo decorare i nostri oggetti già smaltati E ricuocere a terzo fuoco Ossia una temperatura lievemente più bassa di quella che ci serve sia per la cottura a smalto sia per la cottura a biscotto Numero 4 La cottura Quale forno scegliere? Beh, fondamentalmente abbiamo due opzioni Elettrico o a gas Sicuramente la scelta più comoda è quella di un forno elettrico Ne esistono piccolini da poter mettere anche in casa con la corrente che abbiamo Oppure un po' più grandi che hanno bisogno o di un chilovattaggio maggiore o del sistema trifase La cosa comoda dei forni elettrici è che noi impostiamo la curva di salita Accendiamo il nostro forno Aspettiamo che i pezzi siano cotti Che il forno si raffreddi Apriamo e voilà, è fatta Con il forno a gas è un pochino più complicato Perché di solito i forni che troviamo non hanno un controller per la temperatura Quindi dovremmo essere noi pian piano ad alzare la temperatura Inoltre sono lievemente più grandi e hanno bisogno di una canna fumaria Però sicuramente abbiamo un risparmio su ogni cottura Cos'altro dobbiamo imparare per la cottura dei nostri manufatti? Sicuramente dobbiamo imparare a caricare e a scaricare il forno Ricordandoci che per la cottura a biscotto i nostri pezzi si possono anche toccare Ma nella cottura a smalto dobbiamo stare attenti che ogni pezzo sia separato l'uno dall'altro In modo che non si attacchino fra loro Numero 5 La pazienza La cosa fondamentale da imparare per diventare un ceramista Dobbiamo essere sicuramente costanti nella pratica e pazienti nei risultati Non sempre le cose ci verranno bene al primo tentativo Quindi dobbiamo avere pazienza, calma, rilassarci E sapere che solo con la costanza nella pratica riusciremo ad avere i risultati migliori Vi ringrazio di essere arrivati fin qui Nella descrizione di questo video vi lascio dei link utili sui vari punti che vi ho elencato in questo video Se vi è piaciuto mettete un like, seguite il canale e attivate le notifiche Per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione Ovvero la ceramica Grazie per la visione